Alla presenza di numerose personalità istituzionali, si è tenuta ieri a Montalbano Ioni con l'inaugurazione del Museo di Oggetti, Canti e Video della Vita Contadina, intitolato al suo fondatore il cantastore e collezionista Vincenzo Rosano. Il museo è dedicato alla raccolta di immagini, canti e oggetti della vita contadina, raccolti personalmente e cantati da Vincenzo Rosano. Il percorso da Piet, quindi torniamo alla riserva dei Calanchi, quando i contadini tornavano a paese o scendevano a Valera, vivevano questi contesti, noi li rievochiamo vantando una tradizione a livello di Basilicata altissima perché abbiamo insegnato a fare agricoltura a tutti gli altri contesti sociali che si sono succeduti, dopo a partire dalla riforma fondiale che purtroppo ha visto questo paese. Il museo è dedicato alla riforma fondamentale che purtroppo ha visto questo paese. Il museo è dedicato alla riforma fondamentale che purtroppo ha visto questo paese. Grazie a tutti. Buongiorno, buongiorno. Grazie a tutti. L'amore sta passando ora, prima capacità che è sua sola.